Amici di Tanta Salute, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Partiamo subito parlando del nostro cuore. Come ridurre al minimo il rischio di ictus infarto con la giusta prevenzione. Proprio di questo parleremo con il dottor Roberto Tramarin, cardiologo e responsabile medico del CD di Pavia. Benvenuto dottore. Perché è importante la prevenzione cardiovascolare? Beh, la prevenzione cardiovascolare è importante per una serie di motivi. Prima di tutto per la dimensione epidemiologica delle malattie cardiovascolari. Non dimentichiamo che queste sono le prime cause di mortalità nei paesi occidentali ed anche in Italia. Ogni anno in Italia abbiamo circa 140.000 morti legate a malattie cardiovascolari. Molte di queste morte, soprattutto nelle fasce di età inferiore ai 65 anni, sono evitabili e sarebbero evitabili con una adeguata conoscenza di quelli che sono i fattori di rischio che possono portare alle malattie cardiovascolari. Prevenzione e in particolare prevenzione di malattie cardiovascolari perché nell'ambito di quelli che sono i grandi killer con cui abbiamo a che fare in sanità, le malattie cardiovascolari sono quelle su cui i risultati sono migliori. Tanto è vero che nel tempo, a differenza di altre malattie croniche, mi riferisco a malattie oncologiche, mi riferisco alle patologie neurologiche, neurodegenerative, i pure elevati livelli di mortalità nel tempo stanno sensibilmente riducendosi. Ecco, a proposito di prevenzione, come si articolano questi programmi di prevenzione? Che cosa deve fare il paziente? Allora, i programmi di prevenzione sono articolati sulla base di quelli che sono elementi di valutazione molto semplici, che inizialmente fanno riferimento ad un inquadramento da parte del cardiologo di quelli che sono abitudini di vita, quindi il fumo, l'attività fisica, la familiarità, acquisendo poi altre informazioni più di dettaglio che fanno riferimento ad alterazioni di tipo metabolico, alla presenza di diabete, alla presenza di ipercolesterolemia, di ipertensione arteriosa. Sulla base di questa raccolta di dati clinici anamnestici, che si desumono semplicemente dal colloquio con il paziente, si iniziano una serie di approfondimenti di tipo strumentale essenzialmente e di esami di laboratorio. Tra gli esami strumentali, ricordiamo, si può partire da un elettrocardiogramma a riposo, sulla base poi di quelli che sono gli elementi di stratificazione preliminale del rischio, vi sono una serie di altri accertamenti di tipo non invasivo che possono essere proposti al paziente, alla fine dei quali abbiamo una fotografia precisa e della condizione di salute cardiovascolare attuale e di quella che è la prospettiva futura di attesa di salute per quanto riguarda le patologie cardiovascolari. Quindi abbiamo il cosiddetto rischio cardiovascolare che si esprime oggi in modo anche quantitativamente molto preciso, che ci dice la probabilità con cui il soggetto sano potrà andare incontro ad una brutta sorpresa dal punto di vista cardiovascolare. E sulla base di questo tipo di valutazione avremo in mano tutti gli elementi per poter intervenire nel modulare questo rischio cardiovascolare. Quindi non si tratta di programmi di prevenzione standard, voi offrite qualcosina di più? No, assolutamente. I programmi vengono modulati sulla base dell'entità e del tipo di rischio cardiovascolare. Quindi esisteranno dei programmi per pazienti cosiddetti a basso rischio, cioè sono pazienti fondamentalmente sani, ma che hanno alcuni fattori di rischio modificabili, vorrei dire la sedentarietà, l'eccesso ponderale, abitudini alimentari incongure, di ipertensione arteriosa. Si passa poi a gradi diciamo così più avanzati di rischio cardiovascolare ed infine i programmi di prevenzione sono anche diretti a pazienti che hanno già avuto una malattia cardiovascolare e nei quali il nostro compito è quello di fare in modo che non ci sia una progressione della malattia cardiovascolare, ci siano delle complicanze successive rispetto al primo episodio con cui la malattia cardiaca sia manifestata. Ecco, un soggetto sano a che età consiglia di sottoporsi a questi controlli? Cioè una persona sana non ha in mente di andare dal cardiologo perché sta bene, non ha familiarità con queste malattie. Quando consiglia a lei di andare comunque? Purtroppo la storia naturale delle malattie coronariche è una storia molto subdola, nel senso che i sintomi spesso si manifestano solo ed esclusivamente all'esordio della malattia e non sono anticipati da sintomi premonitori, da segni premonitori. Quindi vorrei dire in questo senso non è mai troppo presto per avere un'idea del proprio rischio cardiovascolare. Chiaramente in un soggetto giovane lo screening cardiovascolare sarà più leggero, diciamo così, quindi è sufficiente una valutazione clinica, cardiologica e l'esecuzione di alcuni esami del sangue e di un elettrocardiogramma a riposo per avere un'idea precisa di quello che potrà succedere successivamente a distanza di 10-20 anni. Cuore delle donne è più delicato rispetto a quello degli uomini? La cardiologia di genere è un argomento molto interessante perché le evidenze scientifiche ci mostrano sempre più una peculiarità del cuore della donna, che in genere è protetta rispetto alle malattie cardiovascolari fino all'età climaterica, ma successivamente all'età climaterica i problemi sono più complicati rispetto a quello che si osserva nel sesso maschile. Più complicate in termini di frequenza con cui si manifesta la malattia cardiovascolare, le cause di morte cardiovascolare nella donna sopra i 65 anni sono più frequentemente di origine cardiaca rispetto all'uomo. I problemi sono maggiori perché la modalità con cui si manifesta la malattia coronarica, quindi un infarto, lo scompenso, altre patologie, in genere ha un esordio che può essere più drammatico e con delle conseguenze più rilevanti. Quelle sono le donne più soggette a infarti, a ictus? In età successiva ai 65 anni, sì. Lo stesso peso specifico dei vari fattori di rischio, ovvero del fumo, dell'ipertensione, dell'ipercolesterolemia, è più rilevante nel sesso femminile e quindi è più importante agire in termini di prevenzione. Ecco, prevenire vuol dire anche fare tanta attività fisica, dottore? Sì. Il corretto stile di vita aiuta a scongiurare la malattia? L'aspetto positivo delle malattie cardiovascolari in termini di prevenzione è che intanto gli effetti della prevenzione sono estremamente rilevanti. Si calcola che prima dei 65 anni almeno il 65% delle morti cardiologiche potrebbero essere evitabili con un adeguato intervento su fattori di rischio che sono modificabili. Mi riferisco per esempio all'attività fisica, al fumo, all'alimentazione, allo stile alimentare. Lo stress c'entra? Lo stress c'entra ma direi che le evidenze scientifiche negli ultimi anni hanno ridotto quello che era l'enfasi che fino a poco tempo fa si dava. Nel senso che il soggetto che manifesta quelle stimmate psicologiche che lo portano allo stress è quel soggetto che in qualche modo è anche in grado, grazie in qualche modo allo stress, di gestire meglio il proprio stato di salute e quindi di intervenire proattivamente a modificarlo. Ecco, il CD è aperto da qualche giorno, un nuovo centro a Pavia. Quali programmi di prevenzione avete in quel centro? Beh, abbiamo parlato di prevenzione cardiovascolare proprio perché dal punto di vista di dimensione epidemiologica è uno dei settori più rilevanti, ma vorrei dire coerentemente con quello che è la tradizione del centro diagnostico italiano che è sempre stato molto attento alla prevenzione come elemento fondamentale dell'assistenza sanitaria. Verranno sviluppati i programmi di prevenzione anche in altri ambiti come patologie oncologiche. Purtroppo in questo periodo post-Covid abbiamo strutturato anche dei programmi di prevenzione secondarie di quelle che sono complicanze a distanza a lungo termine del Covid. Quindi vorrei dire verrà offerta una possibilità di approfondimenti, di gestione e di attività in ambito preventivo nei settori più significativi della medicina moderna. Ecco, come si inserisce l'offerta sanitaria del poliambulatorio, del centro diagnostico italiano nella realtà della pur rilevante offerta sanitaria di Pavia e del suo territorio? Beh, con l'ascolto essenzialmente di quelle che sono le esigenze dell'utenza, dei pazienti e dei medici di medicina generale. Noi cerchiamo di offrire il massimo della qualità offrendo un servizio duttile e attraverso un network organizzativo che è molto articolato, molto collaudato a livello milanese e a livello lombardo e che ci auguriamo soddisfi l'esigenza di pazienti, medici, care givers. Perfetto, grazie al dottor Tramarine per essere stato qui con noi, responsabile medico della CD di Pavia. Grazie.